un attimo che la sopra non da far partire ma non va ciao maribru ciao maribru ferrara benvenuto benvenuta ok ci siamo siamo in onda ciao bentornati a tutti ci troviamo qua con le fi strange ma è sempre piaciuto questo titolo infatti sono molto curioso quindi dai mi aspetto dirà su twitch e poi partiamo guarda ok dai questo è il mio canale twitch ok io parto in parte grande ciao andrea benvenuto benvenuto se continui dichiari sì ok oh non spoilerate niente siete vi blocco subito col primo che spoiler a time out la seconda volta ha bloccato forever hai già giocato la prima stagione si hai scelto i sicari che l'arcadia perché me lo chiedi comunque sì perché me l'ha chiesto non è giusto ok dai siete pronti dai andiamo andiamo dai cazzo vicino sono curioso sono curioso che gli altri mi sono sempre piaciuti il taser non è piaciuto tanto infatti non è piaciuto tanto infatti non cominciato per lo schiodato ciao danni benvenuto però ci vuole la luce d'atmosfera questo gioco la luce così è troppo impavido troppo troppo non mi piace fa schifo è buio questo è da horror vediamo così verde ok così secondo me è perfetto mica e te andiamo con gli sbirri c'è qualcosa che non quadra a me non piace il calcio marino il 28 ottobre del 2016 il 28 ottobre del 2016 io 30 tu mare blu no e be no e be no e be no i abbiamo è qui e qui è che qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Auguri allora, Mario. Comunque sono in live su Twitch che stiamo giocando a Life is Strange. Grafica è sempre la solita. Sì, ho capito, quello del gruppo di Telegram. Bene, bene, dai, mi fa piacere, mi fa piacere, Freddy. Eh, dipende, non lo so, Mario, che ora vado a dormire, dipende. Eh, ma l'avevo capito perché te ho oltre gli amici. Eh, peccato, Mario. Che babbo, che è sero? Ma quando è che ti ha buoni, ti ha detto? Eh? Beh, posso comprare la esquina. Cosa? 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 Oh, vabbè, Mario. Non ti preoccupare, non hai niente di che. Se tu, il tempo che ti giri, fai un respiro, non te ne accorgi neanche. Eh, poi ti immagino una brioche. Avevo? 5 euro. Cosa c'è in testa? Ciao, Lupin. Viva le seri, vedo. Vedo. Perché sei so oltre? Perché sei solo? Non lo so, non mi abbia da fare. Non mi abbia da fare. Quindi, vuoi farmi sostenere o non? Sì, ok. 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 ha acceso ben gara io non mi posso abbandonare grande gato grazie del like si ho scritto bene ecco la cappa mi sembra si è automatico lo imposti con i tempi i messaggi che deve mettere bloccalo se lo blocchi non lo vedi più no qua ha piovuto la grandina l'altro giorno si è molto caldo ci siamo andati ci siamo andati ci siamo andati un'ultima cosa c C, O, N, D, O... Oh, stop! Stai da ruolo, punk! Wow, buon drawing, Laila. Daniel's teacher would be proud of me. Ha! L'artista pretentious ha parlato! Non siatevi prima di me, o tu dovrai vedere più delle miei skills. Ha! Se vuoi! Questi che c'è, mica. E' la quimica. Ma si, bene bene. Oh, non si, bene bene. Ma si, bene bene. Sì, ma cosa succede se andiamo a diversi collegi, o ti fai sicko di me, o che altro. Eh, hai parlato dell'internet? No way distance can tear us apart. Siamo fricking fighters. Sì, sei vero. Best fricking fighters forever. Sì, no, vi metto in time out, se spoilerate, l'ho detto all'inizio, vi metto in time out, fatte serie. Che babbo che sei? Non lo so, io voglio provarlo. Il primo è il primo. Bello sta casa. Bello. Sembra la casa dell'altro. Se vedi Laila, lei ha detto che possiamo andare ai film. Lei ha detto... Dio, buggerla, non me. Non sei la sua tipo. Sei fortunata, lei si tratta con te. Oh, grazie. Grazie, Pop. Sei davvero supportato ora. E ora abbiamo bisogno di un giudizio obiettivo. Oh. Oh. Sì. 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 Sì, ho ho detto tattletale. Sì. 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 better pack for the party facciamo una cosa giochiamolo normale poi me lo gioco a modo mio a prendere tutto ma si è proprio la festa quindi ricordi logica dove cazzo la sua camera andiamo qua puttana che bordella allora un po' di musica grazie 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 speriamo speriamo ci ho passato dopo ho detto qualche senso e magari in voce non è tanto voce grazie 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 scusa la roba che ho preso prima fatemi un attimo spostare la telecamera ah c'è solo il play così cioè dove devo andare scusa cerca degli snack trovo da bere per la festa chiedi di sodio cerca gli snack guarda trovo di risparmio guarda trovo di risparmio real funny dad meet the dius organization experts che mi chiede di risparmio che mi chiedi di risparmio che mi chiedi di risparmio mi chiedi di risparmio mi chiedi di risparmio mi chiedi di risparmio è e vai di alcohol E poi che si alcolizzano tutti i bocci No, i bibitano alcolici Cosa ci fanno? Ok, chiedi soldi a papà 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 I soldi Puttana, non ti rispondo allora Puttana, portaci mio padre Ciao Arianna, ciao Ciao, vieni che stiamo facendo un gioco davvero bello su Twitch Ciao, scusa Arianna, è solo che stavo leggendo Oh, una coperta mi serve Questa coperta qua è troppo copertosa, si Oddio il lavoro, qua non mi fa aprire Andiamo in camera del fratello, per forza Il boccia Il boccia ce l'avrà una coperta, no? Boccia Si è chiuso sto bastardo di un bambino Un bagno coperto ne troveremo Vediamo Andiamo a sentire il padre All right, dad Where do you put the blankets? Can't believe dad actually asked me to tag up this wall All right Well, of course He asked Daniel too Is that you, Sean? Is that you? Is that you? Is that you? Is that you? Cool Can you tell your big brother he's grounded tonight? When you see him? Hey Since you're creeping around up there Can you pass me the ranch in the top red drawer over there? Sure, can do See you Um there's no Questo è davvero il mio progetto per oggi. Quindi, sì. Hold on. Hey, ho l'ho. Credo. Hm. Ho bisogno di 16 millimetri. Oh, non c'è un brava minchia che ci abbiamo pure guardato. Non è questo. Hey, ho l'ho. Credo. Mmm. Deve avere una flex head. Non riesco a riuscire. Non riesco a riuscire. Ok. Hey, lo faccio. Lo faccio con questo qui. Probabilmente funziona. Oh, no. Allora, non so. Allora. 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 Sei contento con questo? Sto dicendo, il tuo lavoro? Vivere qui? Ovviamente sono. Ci stiamo molto bene. Magli un giorno, quando mi ritorno, farò tornare a mexico, a Portolobos. Ma fino adesso... Oh, ho scusato questo prima. Mmm... Non lo so, perché mi ritorno a te un carico per la graduazione. Ciao, sed boy. Se ti interessa, sed sono in live di gioco con Life is Strange 2 su Twitch. C'è... 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 Oh, um... By the way... Ha! I was wondering how long it take. You need money for the party tonight, right? Ah, 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 shh. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? Uh... Come on. I... I wouldn't spend money on booze. We just... Want to get some... Some... Halloween crap and stuff. Well... Then you definitely don't need the forty dollars I was going to give you. Twenty bucks? That's it? You can buy a lot of Halloween crap and stuff for twenty bucks. Unless you're lying your ass off. Remember. No eating candy and driving. You got it? Tell Lila too. You hear me? Yes, sir. Just be careful. That's all I'm asking for. Okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. When you were my age, did you party a lot? Sorry. What happens in Mexico, stays in Mexico. Now get out of here before I change my mind about that cash. And keep an eye on Daniel while you're home. Would you? Alright. Thanks, Dad. Hey, hey, hey. Not so fast, shiny boy. Don't you think your papito deserves a hug? Okay. Have fun. But not too much. I won't. Promise. Bye. Love ya. I love you too, hijo. I bet Dad had a pretty wild teenagehood. Even though he won't tell. I'm sure Dad won't miss one blanket for the night. Looks like I got everything. Better pack it all up. Oh, ragazzi, dovete scusarmi, ma io sono curioso. Voglio vedere il trofeo che trofei sono. Completa tutti gli episodi. Completa il primo episodio. Ah, trova l'oggetto collezionabile. Quindi è un oggetto da trovare. Quanti sono per episodio? Sei oggetti. Sono sei oggetti, quindi io un'altra occhiata in casa glielo avrei. Ciao. 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 Che babbo Sì, lascia stare C'hai mai un bambù? No, no Non sei troppo freddo Sì, è molto orgoglioso 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 Ciao, Mauriccio, come va? Che mi racconti? Buona, buona, Mauriccio Eh, come faccio a chiamarlo? Cellulare Non ci ho fatto caso Oh, come faccio a chiamarlo? È molto orgoglioso Daniel Daniel Or dad I could just stay home And binge top gear With dad and Daniel But What if Jen came over? Hmm, we can build a fire And Dude, finally E' questo che non capisco Come faccio a rispondere? Come faccio a rispondere? Ah, magari ispa, proviamo il computer. Beh, ti chiama. Grande. Sì, sì. Dad hooked me up with some cash, so... We're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else... Ooh la la. Okay, serious talk. What are you gonna say to Jen tonight? Well... I don't know. Played cool. Talked about the gig last week. Got to know her tastes? Oh my god. You did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. So what? I don't have any game. These are uncharted territories for me. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into you. Sean! Sean! I'm done, look. I made zombie blood. It's, um, corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Lila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just bugging the shit out of me again after I told you to not? What? Yeah, I know. Anyway... Sean, you're an asshole. What's your problem? I wanna see zombie blood if you don't. Sorry, sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. Oh, please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night... Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Hey, are you listening to me? Um, you know something called multitasking? That's a girl thing, no? Well... Let me see that drawing. Hold on... This might be my masterpiece. Well, yeah. It's my portrait. Oh, shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? What? On her wall. You should check it out. It might... get your attention. Whoa. Her hair. Whoa, indeed. I told you she was super into you, man. What's her profile picture gotta do with me? Huh. You will see. I see you, Sean. Should we set the wedding date now? Hey. Come on. It's just a heart. I'd like your hair, okay? No big deal. Sure. Uh... Hold on, okay? Something's going on outside. What do you mean? Hey! Look at my shirt, asshole! What's the big deal? It's Halloween! Don't ever touch my brother. You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look! I told you, it was an accident. You better leave us alone. Oh, yeah. Go hide your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What? What did you just say? You heard me. Bitch. Don't ever touch him again. Or what? You're gonna get your daddy. Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. You wanna go? Oh, yeah, motherfucker. Then go back to your own country. Whoa. Sean, you hit him. Get inside, now. You're dead meat, bitch. You and... whole fucking family are going to jail. Losers. What? What's going on? Fuck me. Daniel, get over here. Sean. Did he hurt? Okay. Okay, step away. Now. Calm down, officer. Shut up. Oh, oh. Ciao, Lillo. Ciao. Cazzo, scusa. Stavo guardando qua il gioco. Now. Hey, wait. This guy was beating up my little brother. Now. Hands. Behind your head. This is fucking bullshit. Oh, no. Sean. Sean. What's happening? Get on the ground. Sean. We didn't do anything. Sean, be quiet. I swear. Sean. I'm sorry, dad. Daddy. Be quiet. They're good kids, officer. I'm sure they didn't do anything. I said don't move. We didn't do anything. It's gonna be alright. On the ground. Sean. 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 E' da anno! E' la motore! Poi è la figa! Si, hai mostrato il tuo fratello, il tuo quadro! Non c'è la mia! Non c'è la mia! Daniel! Daniel! Ehi! Ehi! Daniel, ehi! 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 Fistori G2 è un'avventura narrativa influenzata dalle scelte del giocatore! Le conseguenze delle azioni e delle decisioni avranno effetto sui te e tuo fratello! Scegliere con cautela! Già! Già! Ho fatto la cazzata! Ehi! 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 mi fa fastidio se mi sbaglio! Mi fa fastidio se mi sbaglio! Non c'è! Non ci! Ci sbaglio da qui! Ehm! Ma non ci, non ci distrugiamo! Ma non ci, ma... 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 Ma non ci succedono realmente! Ci sono ci granddaughteri! Abbiamo guardato 4 giorni! Ma due! Non neanche provate! Grazie Alessandro, anch'io anch'io. Eh, aspetta cinque anni e poi... C'è un po' di questo. Questo è come la gente campi in the woods. Non è come essere... in una casa o... in una casa. Questo è... una reale avventura, certo? Quindi... vabbè... andiamo... andiamo... davvero... Inoltre! Where's dad? Daniel... come on... we gotta go! Why isn't dad with us, Sean? Doesn't he wanna go camping, too? Yes... but I told you that... he can't... I told you... ok? Ok... but I'm so sick of walking! I just wish I was back in my room! I know... I know... Hey... at least we don't have to go to school on Monday... right? Yeah... Look! Um... everybody's gonna be so stoked when they find out... how far you walked! Really? Really? I bet dad would be too! Do you think we walked... like... maybe a hundred miles? Probably... two hundred! Feels like it! Oooh... awesome paws! But next time... dad better get me a good pair of shoes... like yours! Dude... that Bigfoot doesn't need good shoes! I'd rather be a wolf! Ow! We could be wolves! Yeah... 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 that... that works... just... work on that how! Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way... without complaining once... huh? Uh... like... you don't whine too? I don't whine! I... I... tag your ass and run! You're right! No way! Not fair! Whatever! Okay! I'm a zombie! And I'm gonna eat you! Blah! Aaaaaaah! Grande! Ma devi condividere... i video quelli nuovi che ho fatto... tipo gli extravag dei giochi... quelli che ho da condividere! Avete visto il video di Google a quanto è arrivato? Andate a vedere... il video quello di Google! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona Dani, mi fa piacere. Grazie a tutti. 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 Can we please, 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 please get one when we stop next, please? Let's take this one. Let's beat it. Ok, scendo giù, ok, scendo giù e devo tirare tutto a destra. There must be, please. There must be, please, please, there must be a big ass storm. Sì, non lo so, credo che hanno perduto l'auto. Ma se le proprietari vengono dopo noi per la choco cripte? E loro sono sottotitoli! Tu sei molto che sottotitoli. Siamo bello. Daniel! Guardate questo marco sull'aria. C'è quello che? Graffiti? Non è proprio. Si chiamata un'escalza, e la gente si chiama per dare direccizioni. Come GPS? Si, certo. È un po' più antico. Buongiorno! Andiamo a seguire! Se solo il padre fosse qui... Stoppare a pensare di questo. Come se qualcuno sarà pagato nel medio di niente. I hope we don't get lost How? No reception in this shithole Come on, Daniel The sun is going down Man, people don't even read the signs Okay, dude Do you have to use the bathroom? No It smells real bad No shit Seriously? You better go now I don't have to go Jeez Can I just pee on a tree? Okay You'll have to go on your own later Stop treating me like a baby Sean? Look how big these trees are Eh, that's only because they need the sun Besides, they'll protect us from the rain What if they don't? What if they... Attack us? Aren't you Mr. Minecraft? I thought you loved the forest I watched you build giant cities out of logs I did I built the biggest cities ever I can use my axe to chop up some wood That always knew exactly where to go He was a living compass Well, sounds like you're ready for the woods Lead the way Hey, Sean We don't have much This is better than nothing Can I face one, please? Hold on I'm coming They're okay Okay, go ahead Io domani non la metto la sveglia Una pappagalla Ha parlato Io Quindi domani Wow That place is huge It's kind of cool Non credo che Daniel capisce quello che sta succedendo. Non posso dire la verità ora. Non posso. Ficcola, sono molto pescola, sembra che stiamo andando a non c'è, ma come potrei prendere l'occasione qui? Non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito. Come può essere? Wow, guarda questo. Si. Molto. non lo so tra quanto stacco alessandro ma non penso tanto non lo so vediamo tanto domani penso che non vado a lavorare non lo so vediamo Non c'è nulla cosa, abbiamo bisogno di trovare un'ottima blotti qui, e essere fissati a tutti i creeperi. Ok, andiamo. Ciao! si vuole la bubbo come bierze? o coyote? o... più come... bierze, bierze, critiche... solo... non lo so e non lo so e non lo so. loro sono le bierze che ci siamo. se non sono freddi, o freddi. ok, vabbè, 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 questo è un messaggio per minecraft, vabbè, non siamo così bierze, sì, stavo accendendo la live di gioco su twitch, c'è, vabbè, no... vabbè, ma vabbè, vabbè! guarda che si scendeva ok ah è buono io invece sto cominciando a fare un po di tutto quello che mi viene in mente quello che trovo, quello che chiedono come on you're cheating I'm hiding so don't look I'm trying to hide stop looking no piki one two three four five 5 6 7 8 9 10 I'm coming in GTA a me mi ha stufato sinceramente where are you? preferisco su twitch che la gente entra per te non per il gioco ora where could Daniel be? si si grazie Alessandro va bene dove sei nascosto questo boccio? eh non sarà difficile trovarlo per adesso si è imboscato bene non credo che sia andato così la no perché ci sono tanti giochi ho comprato ho comprato Horizon ho comprato un po di giochi quindi quindi ho preso anche World Rally Champion quindi ho preso anche World Rally Champion ho preso anche c'è un po' che guido ed è forte e ho preso anche il giusto che sono iniziale con il giusto I don't know how I still remember these That was a pretty good hiding spot Dai, poi ci passerò, dai Oh fuck Adesso, ma solo apro, lascio lì, ci vado a vedere Wow, Sean, did you see that? Here, kitty kitty, here, kitty kitty Aw, that raccoon must be What if the raccoon came with us? He could be our pet Man, raccoons are not a pet You ever see their claws? Yeah, but this one liked me Until you run out of food I do not want to get stuck out here We've got to find a campsite I do not want to get stuck out here We've got to find a campsite Now we just have to find another way around Hey, there's another one here Oh, Sean, look, look, look I discovered a secret now Come in E lo faccio con la play Dovrei provare a Perché ho trovato un sito Che ti fa anche due live insieme Ma devo comunque acquisire il video dalla play Sul computer Sì, no, lo so, lo so Il posto è tutto lì Streamlabs Ma ce le ho già tutte pronte Anche le overlay Se il counter Con chi c'è in live Tutte quelle cose Ce le ho pronte Le avevo già preparate Perciò Ma, no, le ducate Non miora, non miora Non miora Non miora Ehi Daniel Hai sentito questo? Te l'ho visto bravo Alessandro, grazie. Dai, guarda questo boccia se scende, ti muovi. Ah, vuoi fare la gara? Oh, boccia, vedi di non urlare. Voi, Sean, parla di sbagliare! Stavamo camminando per tanto tempo. Vieni, ho capito. Tu, grazie. Ah, vedete quello? Si sembrava come un clicker. Crepito. Cosa è questo? Deve essere ascoltato in biologia. Stopi! Dove essere ascoltato in un riso. Non lo so. Si sembrava. Si sembrava. Si sembrava. Si sembrava. Si sembrava per un secondo. Si sembrava. Si cazzo. Non si sembrava. Si sembrava. Ho spero che non si sembrava. Oh, sembrava come un caverso. È un pochino. È un pochino. Per che? Per dormire. C'è un pochino. C'è un pochino. Non lo so. Non lo so. Appena poi c'è il day one. Porto questa nuova. Ho comprato. E boh. ... ... Uh, you know, shit to make a fire. Um, twigs, branches... Are you sure we can do this? Who can stop us? Nobody. Okay. Let's unpack. Finally. Okay. Dai che domani mattina qualcuno mi porta alla colazione. Una la nutella e una al cioccolato. Anche un succo di frutta ci vorrebbe. Sì, lo so. Però io anch'io adesso voglio prendere Loman come portatile. Stavo usando due cose, però è la Play, la Play per me. Cioè se un gioco c'è sulla Play non lo porterò col PC. Tipo Eurotrack lo farò col computer. Hey, John, let's have a race. Whoever finds three lords is the winner. Cool? Okay. You're brave to challenge me. So let's do it. No way you're gonna beat me. I wish Noah was out here with me. We could build a fort. Now this is perfect. Nice and dry. Yes, here's number two. Oh, Daniel is in it winning. Ho vinto, boccia, ho vinto io. Ho vinto io se riesco uscire da qua. No, guarda che mi ha battuto lui, bastardo. Eh, vinceva. That's enough for a toasty fire. Oh, yeah, l'entrè. Sean, come here. I win, it's over, Sean. If I let him beat me, he'll be happy. All right, how much you got? It's all there. Yeah, okay. That should be enough for the night. Lo so, sai cos'è? Che è la logitech, la videocamera che si vede poco, perché potrei alzarlo. È solo che amiche mi bruciano gli occhi di brutto, questo gioco. Poi adesso c'è la luce cazzurrina, per quello si vede così poco. Eh, ma gli iscritti, ragazzi, li dovete fare voi. Che non è che... Che non è che... Che non è che... No, non lo so, non lo so. What are you doing, mountain boy? I'm gonna catch a fish to cook. Nice. But we should wait until we get some gear or something. I can do it. Just watch. I know. We'll come back later. No, per voi ve lo dico. Cioè... Ah, volendo potrei fare una live su YouTube nello stesso momento. È solo che... La live di gioco la voglio fare su Twitch. Ma su Twitch c'è una live normale. Con la telecamera piccolina e il gioco. Che c'è la live classica. Ah, no, quello no, è il video di Google. Non ho capito. Non lo so. Eh sì, la live di gioco la sto facendo su Twitch. Man, non lo so, non lo so. Sto togliere il posto. Ehi, cosa stai facendo, Sean? Posso provare? Non ho mai avuto le potele? Ah, grande tuve. Ma è stato un po' tempo fa con il padre. Vedi, di qua no, c'è il gioco. Quindi provi. Guarda me. Dio, come on. È un boulder, non un rock. Here, ti ho bisogno di un rock flat. Prendi così. Guarda la mano. Boom. Ok, ho fatto. È il mio turno. Prendi con il cuore e il cuore. Ma è appena iniziato. Sti fratelli che praticamente sono scappati di casa perché un ragazzo più grande se l'è presa col fratellino. Lui ha dato uno spintone ed è arrivata la polizia. Praticamente lo sbirro ha sparato al padre. Ed è successo tipo... Una botta telecinetica, Thor. Ok, Alessandro, non ti preoccupare, tranquillo. Ma... Allora, adesso stanno scappando. Ho fatto, ho fatto. Vedi? Oh, sì. È fantastico. Credo che sei pronto per l'Olympic Stone skipping team. Andiamo a accendere a questo fuoco. Sì, stiamo andando a una trip. Non mi ricordo. Non mi ricordo che si trova cosa è veramente accaduto. No, è più un punto clic. Riccola diciamo Sì, non so come si chiamano Questo sarebbe un ottimo posto per le vacanze reali Dai, girati, c'è adesso È... bellissimo Praticamente, eh? Sì, non è così buono qui qui Ciao Alessandro, mononotte Ehi, guarda queste collezioni Cosa si sembra? Ah, grazie super del follower Buonanotte, buonanotte, Seto Andrew Il nostro babysitter? Di dove? Spero, guarda Piccola Jane, ci sono ancora? Qui c'è questo grosso ponteo Qui c'è questo ponteo rato Oh no, è così vero Ahhhh Andrew succede Sono felice che non abbiamo bisogno di un babysitter Dai, buonanotte 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 Oh, vedo qualcosa di altro C'è un grosso ponteo Oh, sì? Di dove? Qui c'è Qui c'è Qui c'è Qui c'è Oh Ah Come on Let's go eat something Allora Allora, Nanno Siamo siamo paesi Ora Tora Lasciamo di fai We made fai Can I help? Due o tre dei osi, ci starebbero tutte con la panna Soffia, soffia Tu ha una grande magna come me, quindi vada Sì Si Sì Loro, non ti scala Scusi Scusate, volevo farlo come un film Oh, bello, si calma Scusate, volevo farlo come un po' io la cercherò prima o poi adesso non è una delle mie preoccupazioni do you want a peace do your voice no i'm good you eat it i'm the judge now not you so you can't have a peace anyway ok ok i think i get revenge judge hey i want a new trial too late we're close so good i wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday oh dude that shake was so good can't believe we found a diner on the way out here i want another one i know promise you okay buddy yeah feels good to sit down sean are you mad at me for what happened with brett i don't remember everything nothing happened it was being a dick that's all why can't i remember that's weird um don't worry dude you were running around all day you tired out it happens look a full moon it's not quite full yet wolf boy do you think there are werewolves for real dude we are the wolves see oh nice sean yours are exactly what we needed for survival still no reception still no reception of course no reception of course no beloved no no so Sì, sì, sì. Mi sono fredda. Sean, posso giocare di partita di vostro telefono? Sì, por favor. Sì, grazie. Oh, sono fredda. Sì, grazie. Oh, sono fredda. Oh, come on. Quanto... Quanto... Che? Non! Sono fredda. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Oh... Vi ringrazio a tutti di tutto. Siete stati gentilissimi. Vediamo se ho ragione. Tanto... Giusto per sicurezza. Io vi saluto a tutti. Buonanotte. Ciao ragazzi. Grazie ancora. Ciao ciao. Ciao. Ciao.